Ok, grazie a tutti quanti di essere qui per questo dibattito, grazie soprattutto agli ospiti che sono venuti a trovarci, Riccardo di DOCS, adesso presenteremo questo progetto, ma in realtà no, perché in realtà è anche Riccardo di Macerano, Riccardo di Deriva Prodi e tantissime cose. Emanuele di Macao, ci parlerà di alcuni progetti, e Marco del Sale DOCS. Io voglio essere veramente brevissimo perché non voglio occupare questo spazio, ma anzi voglio dare spazio a una discussione un po' più seria. Soltanto due parole di presentazione, ecco noi vogliamo parlare, stiamo cominciando a discutere già da un po' di tempo all'interno del laboratorio occupato Morion, attraverso la libreria Calibro 9, questa libreria autogestita che già da diversi anni sta producendo un certo tipo di dibattito, oltre che a lavorare effettivamente sul tema dell'editoria e quindi la distribuzione dei libri in città e non solo. Il tema principale è quello dell'indipendenza culturale, è un tema molto vasto, si potrebbe affrontare questo tema da più punti di vista differenti. Sicuramente è un tema molto attuale, perché io penso soltanto ai movimenti studenteschi che hanno attraversato questo paese da ormai tanto tempo, dal movimento del Londra, uno degli ultimi più grandi, agli ultimi movimenti, alla frenesia e il fermento che si sta cominciando a palpare nel mondo universitario, scolastico, in previsione di una futura legge scolastica sulla scuola e una riforma universitaria che già sta vedendo i primi blocchi, le prime resistenze da parte di chi? Da parte di studenti, di giovani, di professori, di comunque di un mondo, di una società che lavora nella cultura, perché anche la scuola è cultura o comunque è un mezzo di trasmissione culturale. Penso alle esperienze bellissime dei teatri occupati, anche quello è stato un tentativo molto forte e seguitissimo in giro per l'Italia, di provare a organizzare il dissenso e resistere a un certo tipo di modello culturale dell'imposto, anche partendo da una discussione sul tema del lavoro, quindi di chi lavorava e continua a lavorare all'interno del mondo culturale, quindi si continua a parlare non solo di produzione immateriale, ma anche di produzione immateriale di operatori che lavorano all'interno del mondo della cultura. Penso, per esempio, adesso mi dispiace, non è potuto venire cause personali, però avevamo ospite anche Luigi Iacobelli, direttore di Odei, dell'osservatorio degli editori indipendenti, e anche questo è stato un tentativo ben riuscito di cooperare, di mettere insieme degli editori appunto che stavano subendo e continuano a subire una crisi non solo culturale, ma anche economica, una crisi vera, perché è imprescindibile secondo me questo binomio, cioè la cultura non può essere intesa al di fuori di quello che è anche la vita di tutti i giorni, che purtroppo, o per fortuna, è anche economia e quindi è delle leggi del mercato, perché se nasce Odei, se è nato Odei, o comunque se i tentativi di resistere a un certo tipo di monopolizzazione della cultura esistono, sono in essere, è perché effettivamente esistono dei problemi reali e questi sono tutti tentativi, tutte pratiche di resistere a questi modelli. E ora abbiamo degli ospiti che ci possono dare un esempio e magari affrontare la discussione più nel particolare. Io volevo soltanto, mi ero preparato, preparato no, però volevo leggere un pezzettino del Manifesto Odei, che è scritto molto bene, sicuramente dirà cose più intelligenti di quante le abbia dette io adesso, perché affronto un tema particolare. Allora, brevissimo, salto a tantissimi passaggi. Allora, siamo in un, è capitolo 1, titolo dove siamo, Manifesto Odei. Siamo in un paese che considera la cultura un bene improduttivo, con la cultura non si mangia, ha detto un ministro della Repubblica non molto tempo fa. Inutili e forse dannosi gli investimenti culturali, buboni di una logica statalista in dismissione. Chi si gingiglia con la cultura è perché ha tempo da perdere. Chi sono gli editori, gli operatori culturali che lavorano e cercano di difendersi da questa situazione? Noi lavoriamo tra le macerie di una scuola pubblica stremata, lavoriamo con università che non hanno più risorse per la ricerca, lavoriamo ricevendo centinaia di curriculum all'anno, di giovani e non giovani, laureati, dottorati, masterizzati, che si propongono come lettori, traduttori, collaboratori, eccetera. Lavoriamo lungo un'interfaccia, una lingua, delle idee, delle strutture di pensiero, delle immagini e relative autori, da un lato, ed è la carta dell'inchiostro, dei punti vendita, dei magazzini, dei camion che circolano, degli alberi in meno dall'altro. Lavoriamo tra l'immateriale e il materiale, traduciamo il primo nel secondo. Il nostro lavoro è un osservatorio sulla conoscenza, sulla grammatica italiana, sull'ibridazione linguistica, sul presente nel quale viviamo e col nostro lavoro, nel cambiare un aggettivo, nel correggere un refuso, o lasciarlo persistere, nel preferire un congiuntivo o un'altra punteggiatura, preferiamo una posizione. Prendiamo una posizione, scusate. E da questa posizione guardiamo le macerie in cui è fatta la cultura oggi nel nostro paese. Quindi prendere una posizione. Cosa vuol dire prendere una posizione? E soprattutto come poi una volta che si è preso la posizione si organizzano queste prese di posizione? Dove si vuole arrivare prima e dopo aver preso una posizione? Questa è la domanda che voglio fare al nostro primo ospite, Riccardo. Grazie. Grazie. Allora, innanzitutto io volevo dire che sono molto contento di essere qui, venuto da Roma, per parlare di indipendenza culturale, di strategie, di organizzazione di questa indipendenza, che a volte significa anche di resistenza rispetto invece a una cultura che indipendente non è. Perché sono contento? Perché in un contesto come questo penso che, come dire, un esempio e già degli spunti di realizzazione possibile sono evidenti, sono sotto gli occhi di tutti. Una cosa costruita così, questo imponente festival auto-organizzato completamente lascia ben sperare rispetto alla scommessa di cui stiamo parlando, che è appunto quella di realizzare una rete e un'organizzazione di progetti che diano visibilità, ma anche sostanza concreta poi alle produzioni culturali indipendenti, ai lavoratori della cultura indipendente, e agli operatori culturali che non si vogliono piegare rispetto al mainstream, diciamo così, a questo pensiero unico che ci viene proposto attraverso le grandi infrastrutture del capitale culturale organizzato. L'esperienza insomma di cui faccio parte che è la cooperativa DOCS partiva proprio da questa idea, cioè alla luce e sulla scorta di molte esperienze finora fatte con alternanti e più o meno importanti riuscite o sconfitte in alcuni casi dai teatri occupati ai festival all'auto-organizzazione in tutte le sue varie forme si è data l'ipotesi si è deciso di costruire di sostanziare l'ipotesi di costruire una rete di queste di queste esperienze di auto-organizzazione e di progettualità culturale indipendente rispetto al al mercato al mercato della cultura italiano e facendo questo siamo entrati in contatto con tantissime esperienze insomma riuscite di successo molto belle che insomma in qualche modo davano anche oltre a lasciarmi sperare facevano ci facevano pensare che serviva ancora di più mettere in rete tutto questo perché le forze vive che si percepiscono che noi vediamo continuamente all'opera nella società le forze vive e le intelligenze vive e vitali di questo paese non meritavano di essere sminuite insomma come attualmente rischiano poi ogni giorno di essere dall'organizzazione della cultura che sia istituzionale o mercantilistica diciamo così che c'è in questo paese quindi è chiaro che questo tipo di organizzazione che noi abbiamo tentato di fare attraverso a partire da un discorso che nasce da un come dire un'esperienza nata in seno all'editoria quindi un discorso che che ha i suoi punti di riferimento dentro il mercato editoriale che poi è il mercato come dire della rappresentazione dello stato della cultura di un paese sostanzialmente ma che insomma intende estendersi quindi questo progetto che noi abbiamo messo in piedi ha portato per il momento a nemmeno un anno in realtà di attività della cooperativa ad associare oltre 100 soggettività diverse tra cui alcune collettive tra cui per esempio alcune qui rappresentate a questo tavolo e a costruire insieme a loro dei progetti indipendenti ma di diffusione e di produzione di cultura sotto altri come dire auspici e sotto altre condizioni che sono le condizioni del di un'idea che è quella del cooperativismo che potremmo anche declinare in altri termini nella forma del mutualismo che è una delle tematiche che attraverso una riflessione sulla sharing economy oggi in qualche modo ritorna anche dentro riflessioni che riguardano molto di più le strategie della politica e del movimento e una delle quali di queste esperienze che abbiamo organizzato e che hanno riscontrato il successo che secondo me si meritavano è stata per esempio l'organizzazione di una fiera dell'editoria indipendente a Milano completamente auto-organizzata anche questa a partire da dei criteri molto precisi cioè dalla riunione di tutti quegli editori che non facessero parte dei cinque maggiori grandi gruppi editoriali che sono presenti in Italia che sono dei gruppi a tendenza monopolistica diciamo così che possiedono oggi allo stato attuale diverse case editrici quindi diversi marchi editoriali ma contemporaneamente anche tutta una serie di librerie quindi catene di librerie e anche quello che c'è in mezzo cioè il logistico quindi i meccanismi di distribuzione le società che si occupano della distribuzione quindi l'editoria probabilmente è uno dei dei terreni che meglio spiega quale può essere poi volendo fare un'analisi un po' più complessiva anche se per il tempo che abbiamo insomma la tipologia della tavola non può essere chiaramente di questa tavola rotonda non può essere chiaramente totale però l'analisi è quella di un'avanzata del neoliberismo che dal punto di vista culturale ha la sua declinazione in una chiusura sostanzialmente delle possibilità di produzione di discorso una chiusura che si schiaccia completamente sulla produzione di discorso maggioritario e che ricerca la riproduzione della maggioranza e di opinioni quindi già sentite che si autoconfermano nel loro essere nel carattere maggioritario proprio per il fatto di essere già state proposte quindi questo nella cultura è un rischio che chiaramente produce produrrebbe insomma il macero di tutte le intelligenze collettive le forze vive che dicevo prima che sono a lavoro e che noi stiamo cercando invece di fare emergere attraverso vari piani e progetti di lavoro ma soprattutto attraverso la messa in rete di esperienze che ripeto nei vari ambiti che gli sono specifici però dimostrano la possibilità di organizzare secondo diverse condizioni e con diversi criteri un lavoro di produzione di discorso quindi un lavoro di produzione culturale che rischia davvero di avere successo e di essere molto critico rispetto allo stato attuale delle cose e lo stato attuale della cultura quindi io per ora mi fermo qua poi con riserva di magari poi discutere parlando di indipendenza culturale è interessante anche riuscire a capire come si può essere indipendenti come poter produrre indipendenza culturale quindi diffondere indipendenza culturale anche in relazione all'aspetto economico anche al discorso della finanziarizzazione del lavoro eccetera a riguardo chiedo a Emanuele se ha qualcosa da dirmi diciamo a riguardo di questo tema per specifiche volevo cominciare a spiegarvi un po' quello che è successo a Macao negli ultimi tre anni dove sostanzialmente dei lavoratori dell'arte della cultura e di tutto un po' quello che è anche la filiera che va a ricomporre un po' quello che di solito si chiama industria creativa perché a Milano noi stiamo in una condizione in cui il mondo della cultura anche è continuamente permeato in modo interdisciplinare da sicuramente l'industria dell'editoria ma anche tutto il comparto dell'industria del fashion del design dei media e molto spesso quello che noi chiamiamo lavoratore nel campo della cultura in questa città è continuamente a disposizione di tutte queste filiere perché magari se sei anche un artista visivo molto spesso sei in un contesto dove la vera filiera economica è magari del design o del fashion o vai a fare il montatore per una sfilata o poi vai a allestire lo spazio del salone del mobile eccetera eccetera quindi questi lavoratori che sono andati a comporre Macao hanno cominciato a fare dei progetti dove sostanzialmente sei innescata una sorta di condivisione dei mezzi di produzione condivisione anche di quello che uno sa fare e nel momento in cui questi progetti hanno anche creato economie mutualismo fa i progetti cioè a Macao per esempio alcuni progetti che fanno molto cassa certe volte mettono a disposizione credito per chi magari commercialmente non è così fortunato ma magari è anche più interessante come progetti di ricerca eccetera questo per dire che il meccanismo di mutualismo e di cooperazione anche informale in Macao è stato molto centrale fin dall'inizio e tuttora è anche quello su cui ci stiamo un po' più spaccando la testa cioè al di là del dover gestire uno spazio insieme al di là di fornire come spazio anche progetti all'esterno o condurre dei progetti di ricerca dall'interno qual è il modello su cui si può consolidare no? una forma di auto-organizzazione che in qualche modo declina il tema dell'indipendente perché o stando insieme al di là di volersi bene o volersi male si riesce anche a innescare una forma di auto-organizzazione che ti emancipa dal punto di vista proprio materiale dai dal modo in cui sei abituato a lavorare o a riprodurti o a gestire il tuo tempo libero nei tradizionali filiere produttive oppure rimane tutto un po' come dire in un limbo no? allora una delle cose che ci siamo posti a un certo punto che è anche il nostro cavillo tuttora è capire come si fa a dare una forma a questo tipo di auto-organizzazione che nasce da un bisogno e che è anche la cifra poi del poter essere indipendente no? allora salto di pala in frasca e vi racconto dell'ultimo programma che abbiamo fatto anche con Saledox che si intitola Shopper astratto abstraic perché contiene un po' un punto secondo me che è centrale anche in questo tipo di questione e cioè la trasformazione del lavoro in questo momento ha molto a che fare con il tipo di trasformazione del mercato del lavoro in cui siamo immersi e una delle cose che abbiamo un po' approfondito e cercato di capire è che c'è un rapporto fra finanziarizzazione automazione del lavoro sia dal punto di vista materiale che dal punto di vista immateriale cioè dell'infosfera ma anche della produzione industriale della logistica e così via che sta raggiungendo tali livelli che veramente siamo di fronte a uno scenario in cui probabilmente gran parte del lavoro rispetto al capitale che produce e valorizza non è più necessario in questo momento abbiamo per esempio sto studiando dei report anche che escono da ambiti accademici molto autorevoli e il modo in cui se pensiamo a tutta la costruzione a tutto il controllo algoritmico della della produzione di informazione a tutto il 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 controllo algoritmico della produzione anche logistica se pensiamo ad amazon piuttosto che eccetera la sanità per esempio tutto tutto il comparto di come vengono diagnosticate le malattie a tutto il comparto anche dell'industria su questo fra primo mondo e terzo mondo non c'è quasi più differenza nel senso che ci sono c'è la Cina che sta adottando interi 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 fabbriche robotizzate e il il mercato del lavoro se paragoniamo questo alla trasformazione del mercato del lavoro andiamo verso una una direzione in cui probabilmente la ridistribuzione delle risorse a mezzo salario è molto marginale andrà nei prossimi 5-10 anni in un orizzonte molto marginale quindi sostanzialmente per farla breve c'è un un mercato finanziario una filiera produttiva sia nella produzione immateriale che nella produzione materiale che sostanzialmente sta sottraendo risorse e concentrandole in pochi e non sta più avendo neanche la necessità di ridistribuire via mezzo salario faccio un esempio che fa impressione youtube una società quotata 25 miliardi di euro in in borsa ha come dipendenti 28 persone quindi cioè siamo di fronte a una specie di trasformazione del mercato del lavoro dove da una parte come sappiamo tutti il mercato finanziario toglie sia al welfare che ai diritti sul lavoro siamo siamo in uscita da un momento in cui anche l'industria e la logistica esternalizzavano ma in questo momento quasi si va verso una una frontiera in cui non c'è più neanche il bisogno di esternalizzare e sostanzialmente gran parte della produzione sociale di valore da una parte vale sempre di meno dall'altra viene appunto vampirizzata diciamo attraverso il debito pubblico l'erosione del welfare e il taglio sull'istruzione sulla sanità eccetera eccetera allora tutto per dire la posta in gioco di capire come facciamo ad auto-organizzarci per tenere all'interno delle nostre filiere produttive la possibilità di non farci sottrarre quel valore e comunque essere necessari all'interno del nostro di un network di base perché probabilmente quel network di base fra un po' non sarà più necessario proprio vuol dire che la gente non è quasi più necessaria per questo tipo di concentrazione di capitali quindi sostanzialmente adesso io non voglio fare troppo tragica però secondo me andiamo verso uno scenario in cui veramente riuscire a come come l'esempio come hai detto tu prima di questo festival o come sono tanti esempi di nuove pratiche di mutualismo e di cooperazione a gestirci fra di noi il valore prodotto e il contenuto veicolato attraverso questa produzione sarà sempre di più secondo me un tema centrale sarà sempre di più un tema centrale e devo dire l'ultima cosa senza approfondirla troppo però senza tralasciare il fatto che dobbiamo farlo non sottovalutando il tema delle tecnologie cioè il modo in cui possiamo auto organizzarci questo la cultura hacker ci ha insegnato tanto e le ultime anche possibilità di elaborare metodi di auto organizzazione attraverso le nuove tecnologie tanto quanto lo fa il capitale è un tema centrale su questo per esempio noi stiamo cercando di capire come poter sperimentare per esempio il tema delle monete digitali come ha avuto un successo enorme bitcoin a livello globale a livello tecnologico si può gestire una tecnologia peer to peer dove in qualche modo governiamo anche l'automazione della moneta però cercando di gestirla diciamo all'interno di un network di comunità che hanno anche una base politica o relazionale e hanno un orizzonte di senso per esempio questo è un tema che come Macau stiamo cercando di affrontare da un anno e mezzo di capire come fare a farci una moneta e a farci una moneta con tutti quegli standard anche di capacità tecnologica e di automazione anche tecnologica per cui riusciamo praticamente a creare un'infrastruttura finanziaria autogestita però allo stesso tempo non primitiva un altro un altro un altro esempio con cui stiamo collaborando e qua finisco è questo è questa altra cooperativa finlandese che si chiama Robin Hood Minor Asset Management che per esempio ha scritto un algoritmo che va a rubare in modo mimetico nel mercato finanziario copiando come si comportano i massimi speculatori nel mercato finanziario ha un rendimento molto alto attraverso una tecnologia molto raffinata un algoritmo molto raffinato draga soldi dal mercato finanziario e ha come progetto cooperativo il fatto con quei soldi di finanziarci solo l'istituzione di common progetti politici e coesione sociale ho fatto solo due esempi il tema delle criptocurrency e il tema dell'attacco algoritmico alla finanza per finanziare progetti politici come due esempi secondo me significativi in questo momento di come oltre a pensare al cooperativismo il mutualismo l'autoorganizzazione anche stare come alla sfida di come dall'altra parte il modello capitalista adesso sta sottraendo risorse accumulando valore e progressivamente costruendo uno scenario in cui il lavoro così tante persone su cui ridistribuire se ben poco per tenerle in vita denaro facilmente andremo in un orizzonte in cui saremo sempre meno necessari no mi sembra che il primo dato che emerge da questi primi interventi è che fondamentalmente c'è di fronte a una situazione di questo tipo in cui poteri forti soprattutto economici rischiano sempre di annientare quello che in editoria viene chiamata la bibliodiversità ma che comunque è la diversità di per sé che poi è il nucleo fondante dell'essere indipendente quindi di essere altro tutti questi poteri forti diciamo mettono in atto questi tentativi di annientamento per cercare di instaurare un potere unico del sapere e la risposta da più parti è sempre quella della cooperazione cioè di cercare di unire le diverse realtà le diverse istanze le lotte per cercare una rete quindi un dialogo e qui la base fondamentale dell'essere indipendenti sia indipendenti quando si dialoga con gli altri quando si ha la possibilità di parlare con gli altri quindi in realtà è un po' un paradosso indipendenti lo sai solo se tutti quanti gli altri sono indipendenti e se c'è comunicazione fra gli indipendenti nel momento in cui un potere forte in un modo o in un altro distrugge indipendenza anche individuale soggettiva che poi è sempre comunque collettiva allora lì avviene l'omologazione pratica materiale ma anche immateriale il sale ha lavorato tantissimo sul tema della cultura sul tema del lavoro anche con progetti molto interessanti penso soltanto a open che cos'era open se no? un tentativo di coinvolgere una pluralità più gente possibile intorno di temi particolari che parlavano di produzione culturale indipendente ti lascio a te siccome gioco in casa magari evito come dire di raccontare in questi dieci minuti i progetti del sale parto da alcuni spunti molto ricchi che sono emersi dai vostri primi interventi e parto da qualcosa che non so se hai detto forse ti lasciamo forse mi sono distratto o non ho sentito però se l'hai detto lo ribadisco che DOCS sta organizzando per la prima settimana di ottobre un grande incontro nazionale forse anche internazionale proprio sul tema proprio per rispondere alla domanda che cos'è l'indipendenza culturale poi eventualmente come la si organizza questa era anche l'ultima domanda che faceva Pasquale secondo me dai vostri interventi emerge un primo elemento cioè l'indipendenza culturale è qualcosa che va situato e che va contestualizzato a seconda dell'ambito la si riconosce però laddove si prova a sottrarre la produzione culturale dalle maglie dei dispositivi neoliberali questo è qualcosa che unisce le varie indipendenze culturali eppure non dobbiamo fare l'errore pena come dire l'impotenza politica di sovrapporre cultura e indipendenza culturale ma ce lo dicevano già i rivoluzionari sovietici del prolet cult nel 1918 cioè che cultura non è un universale quando la cultura diventa un universale loro ci dicevano e poi Benjamin li riprendeva diventava uno strumento nelle mani della borghesia che mirava semplicemente la conservazione dello status quo la cultura come universale aveva un aspetto paternalistico nei confronti del proletario cioè gli insegnava a vivere o al massimo rappresentava le sue lotte ma se ne teneva fuori così l'indipendenza culturale non è un universale ma ha diversi punti di applicazione diversi punti di forza si gioca sempre nella relazione di potere tra produttori culturali reti cooperazione e in questo caso dispositivi neoliberali penso all'editoria e mi viene in mente rispetto a quello che dicevi che indipendenza culturale nell'ambito dell'editoria significa sia a livello nazionale ma anche a livello globale lotta contro monopoli in Italia ci sono le cinque i cinque gruppi editoriali che lavorano in monopolio e DOCS funziona come una risposta a questo tentativo di soffocare sostanzialmente il mercato e poi i contenuti della produzione culturale cioè non è solo una questione di distribuzione a livello globale c'è il caso di Amazon che è il player online per eccellenza ma che anche ha questa potenza di organizzare la logistica di cui parlava Emanuele cioè questo internet delle cose come è stato definito anche Amazon per une volte quindi questo nell'editoria ma vediamo come addirittura Emanuele Macao e queste altre esperienze tra cui Robin Hood eccetera assumono addirittura la speculazione finanziaria come terreno da riappropriare in nome anche dell'indipendenza culturale in nome come dire del comune in nome di un potenziamento di un rafforzamento dei commons vari ma anche appunto in nome e avvantaggio delle varie indipendenze culturali Emanuele descriveva poi lo stato attuale di un di un processo che un processo che per esempio Cristian Marazzi nei suoi libri ha descritto molto bene cioè quello della trasformazione dell'accumulazione finanziaria sostanzialmente dall'economia reale all'ambito finanziario con gli elementi drammatici per esempio in termini di restringimento del welfare dei salari a cui tu facevi riferimento ecco l'indipendenza culturale oggi è andare a reclamare anche là anche in questo in questo ambito algoritmico e in materiale della finanza e della finanziarizzazione andare a reclamare quote quindi io credo che questo sia un primo aspetto veramente importante però non possiamo neanche fermarci qua e chiudo cioè non possiamo fermarci a dire ok l'indipendenza culturale non è un universale è situata e sono percorsi di lotta che ovviamente come dire in un in un'epoca di di moltitudine non possono che essere percorsi di lotta differenti ma che si intrecciano non possono essere che percorsi di lotta che non hanno più come riferimento un soggetto storico definito come il proletariato o una classe che si trova a lavorare solo nelle fabbriche per tutti i motivi che diceva Emanuele ma si tratta ovviamente di pratiche multitudinarie quindi di pratiche diverse però lo step che noi abbiamo politicamente bisogno di fare e ne abbiamo discusso brevemente anche a Venezia quando Riccardo sei venuto al Morion è quello di riuscire a trasformare queste pratiche di indipendenze culturali da tattiche individuali di sopravvivenza di fronte a un mercato sempre più difficile e sempre più legato a una questione monopolistica con delle condizioni di lavoro sempre più precarizzate e decorificate da questo da tattiche individuali a una strategia politica che sappia in qualche modo mutare le condizioni attuali della produzione e questo che è come in un ambito più generalmente anche in ambito politico più generale questo è il tema cioè come passare da tattiche individuali di sopravvivenza nella crisi a strategia politica di rete non è semplice ci sono state appunto delle delle emergenze come dire delle eccedenze che hanno fatto intravedere percorsi possibili che hanno messo in atto percorsi possibili Pasquale citava l'onda l'onda è uno di quelli i movimenti studenteschi sono ciclicamente dei movimenti che mettono in pratica l'indipendenza culturale ripeto non come tattica individuale ma come strategia politica in cui intravediamo come dire una classe in rivolta gli altri sono stati i teatri occupati ne parlo al passato in qualche modo con con rammarico sapendo che quella è stata e ciò che rimane di quell'esperienza sono ancora vettori di mobilitazione però anche quella è un'esperienza che perlomeno in questo momento probabilmente più per dei limiti interni che peraltro ha registrato una battuta d'arresto quindi io chiudo e dico benvengano iniziative come quella di DOCS che possono essere catalizzatori di nuove indipendenze culturali per trovarsi e per provare a costruire un discorso che sia anche oltre i pur interessanti ambiti di rete che si aprono sui temi per esempio dell'innovazione culturale o dell'innovazione sociale che sono importanti dal punto di vista di raccolta di contenuti eccetera ma a cui probabilmente non interessa come dire un contrasto radicale determinato alle retoriche e ai dispositivi neoliberali giusto perché è vero che non l'avevo detto dunque credo breve sintesi per dire mi sembra che stiamo parlando appunto del fatto che la necessità di oggi pur mantenendo costantemente l'occhio attento sull'analisi dei processi come dire del neoliberismo e del capitale che ci mettono a rischio costantemente nelle vite individuali ma anche in quelle collettive però cercare di organizzare di sostanziare delle pratiche che contengano al loro interno queste stesse analisi questa stessa critica di questo sistema ma che nello stesso tempo appunto non siano soltanto questo ma siano anche delle forme che rappresentino già un'alternativa una pratica alternativa per fare questo secondo me bisogna iniziare a sostanziare questo concetto qui secondo me la scommessa da fare oggi secondo me secondo noi almeno DOCS l'idea era quella è di sostanziare questo concetto di indipendenza culturale quindi l'idea del seminario io direi che questi appuntamenti insomma che abbiamo cominciato a fare che sono molto interessanti dovrebbero proseguire una delle tappe potrebbe essere questo seminario convegno nazionale di due giorni a Roma in cui cercare di sostanziare questo tema ma arrivare e qua la dico crossa ma non così tanto a costruire a scrivere un nuovo manifesto dell'indipendenza culturale che ci permetta pure così come abbiamo citato prima un manifesto dell'editoria indipendente riuscire a sostanziare questo discorso sotto i suoi vari aspetti ma come una pratica come la possibilità di aprire scenari differenti grazie allora siamo perfetti nei tempi che ci hanno dato e non so se ci sono domande risposte qualcosa al pubblico risposte dal pubblico se no direi che va bene così abbiamo affrontato dei temi interessantissimi abbiamo lanciato anche un appuntamento quello di ottobre e soprattutto a corretto numerosi al prossimo Book Pride che ci sarà a Milano periodo? marzo marzo fine marzo dove una fiera dell'editoria indipendente grossissima bellissima la prima fiera auto-organizzata auto-finanziata in Italia ha avuto un grande successo più di 20.000 presenze ospiti importanti discussioni profondissime terza fiera nazionale quindi prossimo anno sarà sicuramente ancora più bella ancora più grande vi aspettiamo tutti a Milano vi aspettiamo tutti a Roma vi aspettiamo tutti i nostri spazi e buona serata con Sherwood a Sherwood certo grazie a tutti grazie a tutti